Il commissario straordinario e libero consorzio di Ragusa Salvatore Piazza ha reso visita al sindaco di Ispica Perenzo Muragli che lo aveva invitato in municipio per affrontare alcuna problematica legata al territorio in materia di viabilità provinciale e illuminazione pubblica. Durante il colloquio Piazza, dato la sua disponibilità a venire in conto alle esigenze dell'amministrazione comunale sempre nell'ambito delle proprie competenze compatibilmente con le ristettezze di bilancio. Il commissario ha informato in orte tempestivamente Muragli della fissazione della data per l'esplazamento della gara d'appalto per i lavori di ammodernamento e il tracciato della provinciale Ispica Pozzallo per un importo complessivo di 4.484.000 euro. Lotto che è andato in appalto che è coperto con i fondi a Valerex Insicem e riguarda uno dei tre lotti della cosiddetta bretella di collegamento col porto di Pozzallo. Il sindaco ha poi posto al commissario alcune criticità relativamente alla provinciale Pozzallo-Marz per quanto concerne alcuni pari della pubblica illuminazione e il versamento nella rete stradale della sabbia proveniente dal litorale. Menta sulle interferenze che arrivano dalla costruenda autostrada Siracusa-Gela con i lavori sospesi e che interessano anche il territorio ragusane e spicesse in particolare, Piazza ha ribadito che l'interlocutore, il consorzio autostradale siciliane e la regione, ma il libero consorzio non farà venire meno il proprio appoggio al movimento di opinioni in campo per sbloccare l'importante infrastruttura del sud-est. Grazie!